Un pomeriggio nero, nerissimo. Il Teramo naufraga al mannucci di Ponte d'Era contro un'Aquila a Montevarchi che con cinismo maggiore avrebbe potuto rendere la sconfitta una vera disfatta. Finisce 3-1, ma per quello che si è visto, nei 94 minuti i toscani avrebbero potuto affondare più e più volte. La settimana sarà stata anche particolare, ma nulla che possa giustificare un diavolo colpevole e assente nel pomeriggio pisano. Guidi scelre Birligea davanti insieme a Bernardotto e Malotti con Rosso che va in panchina, ma perde nel riscaldamento Soprano che non era al meglio. Al suo posto gioca Bellucci, nell'Aquila a Montevarchi solamente un cambio tra i pali con Giusti al posto dell'Ander Rinaldi. Primo squillo di casa al minuto 8 con la discesa di Gambale e Barranca al centro che grazia la difesa del diavolo col pallone sopra la traversa. Sempre Barranca, due giri di lancette dopo, alza una girata in bello stile al centro dell'area di rigore. Un tempo quasi per vedere una supremazia sterile dei paroli di casa fino al 36esimo quando Malotti scambia commungo e sfrutta un rinvio non perfetto della difesa di casa per il colpo da biliardo che batte Giusti e porta in vantaggio il Teramo. Terzo gol in campionato per il numero 7, ma è un punteggio questo che dura pochissimo perché dopo un minuto Barranca, caparbi in area, si sistema il pallone sul sinistro e scarica un mancino violento sul primo palo per la rete della parità immediata dell'Aquila a Montevarchi. Il primo tempo non finisce mai di sorprendere e regala addirittura il sorpasso dei Toscani. Al 42esimo, Iallo calamita un pallone verticale di Mercati, resiste, forse con un fallo su Bellucci, apre il compasso e batte Tozzo sul palo lontano, vantaggio che potrebbe incredibilmente diventare doppio se Barranca, a fine tempo, liberato da uno scivolone di Piacentini, non fallisse una palla gol colossale, forse anche grazie al piede proteso di Tozzo. Guida inizio ripresa inserisce Bois per Viero, ma dopo nemmeno 30 secondi dall'inizio ancora Tozzo salva il diavolo col piedone sulla conclusione a botta sicura di Gambale, servito da Iallo, Teromo frastornato e che vede ancora Iallo andare alla conclusione minuto 48 con l'estremo difensore ancora pronto alla respinta. Spiragli bianco-rossi al 55esimo, cambio gioco di Mungo per Malotti che vede e serve l'inserimento proprio di Bois, Giustici mette le mani e si rifugia in corner. Altro squillo, quello di Aziosmanovic che dal vertice dell'area di rigore apre il compasso e dà solo l'impressione del gol. Anche Rosso, entrato per Birligia nella ripresa, va vicino al 3-2 al 63esimo, con un diagonale, ma sul ribaltamento di fronte, il diavolo è colpevolmente fermo, Barranca, Fulmina, Piacentini e Arma, il piattone comodo di Gambale per il Triss Rosso-Blu. Squadra di guidi allo sbando e che a metà secondo tempo rischia di incassare anche il poker, con il fallo di Rossetti appena entrato sempre su Barranca e col calcio di rigore con lo stesso numero 13 però si fa parare da Tozzo. Il diavolo avrebbe bisogno di mettere le basi di una clamorosa rimonta, ci prova a un quarto d'ora dal termine con Montaperto, entrato per Malotti, ma Giusti è ben piazzato e fa su il pallone. Biancorossi attivi nel finale sul settore destro, con Montaperto e Bua, e il servizio per Bernardotto che colpisce sotto misura come può e con Giusti che si salva in calcio d'angolo. Ma sarebbe stata comunque una consolazione magrissima, perché quello che vive adesso è il Teramo, se non è un momentaccio. Poco ci manca, in attesa di ratificare le intese societarie serve fare punti in campo o almeno rialzare la testa, il derby di Coppa di mercoledì col Peschiara e la gara con la fermana di campionato saranno snodi cruciali per il novembre biancorosso.